Buongiorno e bentrovati a tutti i telespettatori di Telequattro, Sveglia Trieste ancora una volta in questo sabato 18 di febbraio, reduci tra l'altro da una serata con Ring sul tema Ater quanto mai incandescente che continuerà a imperversare questo tema nei nostri telegiornali anche nella giornata odierna intanto vediamo le prime pagine dei giornali, iniziamo con il piccolo stuprata al colloquio per un impiego, Triestina drogata e abusata a Mestre da falso datore di lavoro ne parleremo perché insomma ieri abbiamo visto anche il servizio nel nostro Tg realizzato dalla redazione di Venezia direte Veneta, PD ultimi tentativi anti scissione, appello all'unità di Serracchiani gli elettori ci guardano e non capiscono, ancora una giornata di passione del PD vista dell'assemblea convocata per domani che dovrà sciogliere il nodo del congresso, l'obiettivo è scongiurare la scissione intanto Giannini dice stagione finita fra i neocentristi e cosa rossa è cosa rossa scusate dopodiché ok la riforma Madia, licenziamenti entro un mese per i furbetti del cartellino corte dei conti, danno erariale, chiesta la restituzione di 1,4 milioni di euro ieri la presenza della Presidente della Camera a Trieste, Boldrini, fermare l'odio è un'emergenza che riguarda tutti, la vedete nella casa famiglia di via Valussi della Fondazione Lucchetta Ota d'Angelo Rovatin cronache, incubo droga, raddoppiati i giovani al CERT, alto all'allarme importante e poi la cronaca ieri in serata per doni investito sulle strisce in grave condizioni all'ospedale di Cattinara il Corriere della Sera a primari è l'offerta di Renzi il duello emiliano ottimista, possiamo evitare la spaccatura Del Rio, sposto la mia sedia per Bersani l'ipotesi di farle slittare di un mese ma per la minoranza non è sufficiente alta tensione nel Partito Democratico e poi dalle poste a Finmeccanica parte il Warzer delle nomine e ancora un altro tema importante, le cause di lavoro calano del 33% un istante pubblicitato, entriamo nello specifico, negli argomenti e poi vedremo anche quelli che saranno gli ospiti di questa mattinata con noi a Sveglia Trieste, tra poco Ben trovati, ben trovati a Sveglia Trieste ancora con la rassegna stampa andiamo a vedere quello che è stato così evidenziato di più dai media locali e nazionali innanzitutto c'è questa situazione interna al Partito Democratico politica, la resa dei conti PD, ultimi tentativi per evitare la scissione Renzi tende la mano alla minoranza e chiama il governatore Emiliano fuori onda di Del Rio Matteo non ha fatto nemmeno una telefonata Cuperlo non è un'intervista che può sciogliere il nodo ci vuole umiltà nessuno può avere un livello di autostima stale da anteporre se stesso ad un'esperienza politica Pisa Pia a questo punto bisogna assolutamente evitare una scissione che sarebbe non solo un peccato non solo una sconfitta ma una sciagura per il Paese a Roma e Rimini il weekend più lungo del centro-sinistra due giorni che potrebbero cambiare gli equilibri interni Kermes di sinistra democratica congresso sì domani l'assemblea Grillo lunedì della Capitale intanto la Saracchiani tenta la mediazione dice serve unità nuovi appelli lanciati dalla governatrice del Friuli Venezia Giulia e dal capogruppo alla Camera Rosato a quanto pare però proprio le parole di Rosato sarebbero state alla base di un'ulteriore diatriba interna al Partito Democratico vediamo cosa ci racconta nel nostro servizio il nostro Ferdinando Avarino che ieri sera riassunto un po' la situazione per quel che riguarda anche i protagonisti in campo che arrivano proprio dal Friuli Venezia Giulia e stanno incidendo non poco sulle vicende nazionali Nemmeno una telefonata da Renzi per cercare di ricucire il fuorionda del ministro del Rio acuisce le tensioni interne al PD a un passo dalla rottura una crepa i cui esiti rischiano di essere devastanti come la fuoriuscita dell'acqua dalla diga californiana parola del responsabile infrastrutture che teme la diaspora di molti renziani pronti a lasciarlo e nel partito di governo regna il caos nel pomeriggio di oggi poi Renzi alla fine ha chiamato il governatore della Puglia Emiliano dando via al dialogo con la minoranza ma c'è un ultimo episodio in questa ridda di dichiarazioni, cambi di casacche alleati per finta e opportunisti dell'ultimo minuto e riguarda direttamente la nostra Trieste oltre al nodo Seracchiani che fine fa il soldato Rosato il potentissimo capogruppo democratico triestino la Camera sta vivendo ora ad alta tensione ne è una testimonianza la riunione dei capi gruppo a Montecitorio mercoledì sera convocata dai deputati per avere chiarimenti da Rosato che ha più volte sostenuto il voto anticipato per evitare che gli onorevoli raggiungano la soglia della pensione loro, arrabbiati, lo hanno atteso al varco e quando Rosato ha ribadito l'idea renziana di una legge subito, il mattarellum con capilista bloccati e il voto prima possibile è successo l'imprevedibile interrotto bruscamente dal ministro Franceschini che avrebbe stroncato il suo intervento ribadendo come impercorribile la strada della vecchia legge quanto invece più ovvio utilizzare i rilevi della consulta sull'italicum e applicarli anche al Senato il congresso pidi entro l'estate ha detto ancora per poi andare al voto a fine anno o meglio a scadenza naturale altrimenti il paese andrebbe nel caos il diktat da più parti è questo fermare Renzi nel suo delirio personalistico ma cosa c'è dietro questa pesantissima stroncatura di Franceschini a Rosato la scissione è ormai data per certa molti renziani pronti a lasciare l'ex premier che però se non cerca di ricucire è perché forse conta di liberarsi dei pesi per forzare ancora una volta il voto e Rosato le sue emozioni alla capigruppo di mercoledì sera pare sarebbero state tutte respinte con perdite e Franceschini avrebbe così evitato la mala figura riservando la stroncatura però al fedelissimo di Renzi un segnale chiaro da lanciare all'ex premier intanto interviene Deborah Seracchiani con il suo segnale non molto distensivo alla minoranza ci sono valori che abbiamo condiviso e che ci uniscono dice è difficile credere che i compagni escano dal PD per motivi di calendario o sulla figura del segretario proseguiamo ancora paginate su questo tema vedete i protagonisti in campo D'Alema, Renzi, Bersani e Cuperlo PD comunque va ad un'esperienza chiusa dice Giannini è venute meno le basi culturali, valoriali e personali Corte dei Conti l'anno giudiziario del 2016 restituiti allo Stato 1,4 milioni richiamo del procuratore spedicato all'inchiesta sulle spese fogli della regione alle assoluzioni in appello decisioni discutibili dice il nostro Umberto Bosazzi ieri se n'è occupato ora vediamo cosa ci ha raccontato nel TG circa il lavoro quotidiano della Corte dei Conti atti di citazione per oltre 8 milioni di euro inviti a dedurre per oltre 20 cui si aggiungono sentenze di condanna con richieste pari a 1,35 milioni sono le cifre più significative per quanto riguarda il 2016 registrate dalla Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia presentate in conferenza stampa dalla procuratrice Tiziana Spedicato qui vanno aggiunte per un quadro complessivo dell'attività dell'organismo le gravi carenze di organico registrate dal Presidente della Corte dei Conti Paolo Simeon il quale ha sottolineato come da luglio il lavoro sia stato portato avanti dal Presidente e da un magistrato integrati da un ulteriore magistrato della sezione di controllo noi dobbiamo mantenere forte il controllo larga la trasparenza e ovviamente ribadire ancora una volta la grande collaborazione che c'è fra istituzioni e la forte collaborazione che c'è tra l'amministrazione regionale e la Corte dei Conti anche nella sede di controllo la procuratrice ha poi parlato di un anno caratterizzato da un'attività ad ampio raggio miranti a stimolare buone pratiche e autocorrezione la procura si è interessata a fattispecie diversificate con ampia casistica di cattiva gestione amministrativa Spedicato ha evidenziato indagini per 13 milioni inviti a dedurre per un milione nel settore della cattiva gestione dei finanziamenti pubblici Spedicato ha indicato inoltre due azioni riguardanti il settore dei lavori pubblici con un atto di citazione per un danno da 500 mila euro e un invito a dedurre di pari entità in entrambi i casi si tratta di lavori non eseguiti ma pagati da enti pubblici in materia si registrano anche due condanni a progettisti e direttori di lavori che hanno compiuto errori di progettazione contestati infine danni per spese eccessive o inutili per il personale di enti pubblici a cominciare da incarichi senza motivazione a segretari comunali e di comuni molto piccoli Le prospettive future della procura intanto porterà a termine tutti, definire tutti i procedimenti per i quali la procura ha emesso in vita a dedurre poi continuare la propria azione in tutte queste materie che vi ho sottoposto Questo è proprio perché la procura crede per scelta in queste azioni ad ampio raggio che possano anche stimolare condotte virtuose e misure di autocorrezione Proseguiamo allora statali le misure, i furbetti del cartellino licenziati in 30 giorni Riforma Madia dopo i rilevi della consulta il governo vara il decreto di modifica nel testo anche il piano di riduzione delle società partecipate scadenza a giugno Furbetti del cartellino per chi viene colto a strisciare il badge e andare poi a casa sospensione in 48 ore licenziamento entro un mese Anas nella nuova autovie ma il Friuli Verenzia Giulia avrà il controllo la Presidente Saracchiani in audizione illustra i termini dell'operazione ma da Riccardi e Tondo si leva un coro di critiche intesa, nascosta a lungo queste le opposizioni Boldrini, Foibe violenze fasciste espressioni della cultura dell'odio il monitor lanciato dalla Presidente della Camera durante la visita all'ex Narodnidom di Trieste queste terre sono il sindolo dell'oppressione dell'intoleranza a cui dobbiamo dire basta Molandi e Saracchiani scherzano sull'ostilità PD si parietto tra cantante e governatrice sul palco dell'evento contro le offese sul web il messaggio degli organizzatori in una rete così piena di insulti non ci stiamo situazione internazionale Trump, Putin e i segreti delle democrazie fragili ecco perché il Presidente americano ha silorato il suo consigliere per la sicurezza e la tecnologia invasiva a fare la differenza in un'era dalle mediazioni impossibili l'intelligence ha scovato i ripetuti contatti con i servizi russi e anche conversazioni con il nemico e invece di ieri il caso della Guardia Nazionale anti-clandestini ci sono archivi e circostanze riservate che talvolta devono rimanere tali per permettere un confronto necessario incombe invece la paura di un grande di un grande occhio Ljubljana contro Vienna lingua slovena da tutelare il Premier Zerar passo imperdonabile il capo di Stato convoca l'ambasciatore austriaco va trovata subito una soluzione la Carinzia riforma lo statuto e stabilisce che il tedesco è l'unico idioma ufficiale del land l'altro là di Pacor faremo rispettare i diritti della nostra minoranza intanto il governo corato dal Via Libera ai lavori del ponte di Sabbioncello in Dalmazia qui c'è il rendering di quella che dovrebbe essere la struttura appunto al computer il giallo dei due coniugi morti a fiume dona senza vita nello scantinato di casa ha trovato il cadavere del marito che la polizia cercava da giorni suicidio overdose le piste che vengono indagate caso Alpi si indaga suggestione a nomera del falso testimone fascicolo aperto dopo l'assoluzione dell'unico condannato desecretati documenti che fanno luce sulle navi dei rifiuti economia generali acquista il 3% di intesa pronti a valutare il presidente del leone di Trieste Galateri annuncia aperti a qualsiasi offerta ma non a livello societario STX France sia fincantieri ma insieme ad altri soci il segretario di Stato dopo l'incontro con l'amministratore delegato Bono presto una nuova riunione Parigi sta ammorbidendo la sua posizione e chiede altri player nell'operazione Unilever nel mirino di Kraft per le nozze del secolo dall'operazione nascerebbe un colosso mondiale da 240 milioni di dollari ma al momento miliardi scusate di dollari ma al momento le due società di consumi non hanno raggiunto l'accordo la cronaca triestina incubo droga tra i giovani raddoppiati casi al CERT il dato sugli under 25 dagli 84 ragazzi seguiti nel 2014 ai 166 dello scorso anno dalle pasticche di ecstasi fino all'eroina balestra fragilità dalle molte cause quindi una questione della dipendenza da droga a Trieste che chiaramente preoccupa prevenzione per strade a scuola da overnight a afrodite le azioni per informare e contrastare i pericoli un'equip stazionava Sistiana ora i banchetti in centro per quanto riguarda la movida notturna obiettivo nelle aule rendere gli adolescenti a loro volta portatori di conoscenza poi la storia è un caso particolare quello di una ragazza di 23 anni che racconta la sua odissea lieto fine smifavo ogni giorno uscirne è stata dura dice e poi il caso di cronaca che ha insomma ha provocato stupore e sdegno in tutti cercava lavoro stordita e violentata vittima una trentenne di Trieste che si era recata a mestre i dettagli dell'indagine e poi sono stati illustrati in una conferenza stampa ieri a Venezia la ragazza era in cerca di lavoro e per questo si era recata in provincia di Venezia ma purtroppo la vicenda ha preso una piega quanto mai drammatica sentiamo il servizio dalla redazione di Rete Verita di Venezia un annuncio di lavoro sul web e la sventurata rispose prima il colloquio a Verona poi una cena a mestre e quelle gocce subdole nell'acqua mentre lei si allontana dal tavolo un intero flacone di rivotril finirà in quel bicchiere e lì dentro negheranno anche i sogni di un nuovo lavoro in stato confusionale priva di intenzione e volontà verrà violentata per ore è la ricostruzione degli inquirenti della squadra mobile di Trieste al termine di indagini serrate e minuziose che porterà la procura di Venezia a disporre l'arresto per Andrea Campana 46 anni domiciliato a Roma è stato intanto tratti in arresto questa persona per questo comportamento che vi ripeto giudichiamo molto grave non esitiamo a definire inquietante inquietante e brutale è una trentenne letto negli origini ma residente nella città Giuliana con il fidanzato a finire nelle maglie del 46enne catturato a Roma e ora agli arresti a Regina Celi la giovane donna aveva risposto nel luglio scorso a un annuncio su un popolare sito internet che offriva lavoro come hostess dopo una prima selezione a Verona l'incontro finale a Mestre alle 22 l'ultima telefonata col fidanzato quindi lo stordimento e la violenza alle 3 di notte Campanella accompagna la giovane all'albergo come racconterà il portiere il fidanzato riuscirà a sentire di nuovo la ragazza soltanto dopo le 11 del giorno seguente ma la troverà intontita e disorientata il giovane ha svolto un'attività di impulso perché la vittima non era presente a sé l'andrà a recuperare la accompagnerà all'ospedale di Cattinara a Trieste esito drogata da benzo di ezzepina qualche scoriazione sul corpo 28 giorni di prognosi e la mobile di Trieste apre le indagini ancora in corso la 31enne infatti non è stata la sola a rispondere a degli annunci pubblicati da Campanella e si cercano eventuali altre vittime tra Verona Mantua e Perugia chi dovesse avere notizie utili può chiaramente fare capo alla squadra di Trieste e poi svolgeremo gli ulteriori accertamenti caso veramente inquietante questo poi ieri sera purtroppo una notizia grave di cronaca che cercheremo di approfondire in giornata per le sue evoluzioni mediche pedoni investito sulle strisce gravissimo incidente in Riva Grumula l'uomo secondo le prime ricostruzioni avrebbe tentato di attraversare la strada con il rosso stava attraversando con il semaforo rosso ho sfanalato tentato di bloccare l'auto riuscendoci solo in parte mi dispiace molto la ricostruzione della contatta dell'automobilista che era i pochi minuti prima delle 18 investito sulle rive un pedone che appunto stava attraversando con il semaforo rosso telecamere sugli autobus promosse dai passeggeri nel giorno dell'esordio del sistema di videosorveglianza sui primi dieci mezzi della trieste trasporti l'utenza e concorde così aumenta la sicurezza a bordo mercato coperto risanato risanato dopo 35 anni aprono nuovi negozi il 28 febbraio la ripresa dell'attività 5 mesi di lavoro costati scusate 200 mila euro una rete di 400 metri quadrati contro i colombi e poi in viaggio Nerione Nerione di San Giacomo noi però ci andiamo a vedere anche il servizio relativo alla situazione di Via Negri le case dell'atter naturalmente con le ultime novità sentiamo danno la beffa dice il vecchio adagio rispolverato oggi dai condomini degli alloggi ater di Via Negri che dopo i noti disagi strutturali affrontati nelle proprie case talvolta addirittura inabitabili per un periodo si sono visti recapitare diffusi aumenti sui canoni oggi dopo l'interessamento dello sportello di Fratelli d'Italia si scopre uno dei fattori che hanno determinato i rincari la beffa perché le case di Via Negri sono quelle che sono state definite lo scandalo di Via Negri quando lo scorso inverno i cittadini protestavano per delle condizioni in alloggi peraltro che dovevano essere nuove delle condizioni di manutenzione pessima tanto che persino l'atter aveva definito pessimi i lavori che erano stati svolti ebbene adesso che con la nuova legge regionale del Partito Democratico e della Seracchiani anche la qualità dell'alloggio conta per vedere quanto è il canone questi inquilini hanno scoperto che questo stabile che l'atter stesso ha definito pessimi lavori è stato messo nella fascia massima di qualità insomma abitazioni nuove e quindi automaticamente di prima fascia nonostante molti problemi di infiltrazioni in pianto elettrico non siano ancora risolti del tutto ma i parametri ISEE hanno inciso in modo pesante anche su chi ha un'attività commerciale come l'esercente di un piccolo negozio di periferia che si è vista quadruplicare il canone da 90 a 500 euro a fronte di un guadagno medio mensile che si aggira sui 600 euro perché? perché questa signora ha un negozietto in periferia vende poco e quindi resta tutto in magazzino ma con la contabilità semplificata il magazzino equivale a reddito nell'ISEE e questa signora che non guadagna un euro più di prima si ritrova a non poter pagare l'affitto per merce che non venderà mai perché parliamo di vestiti di 6, 7, 8 anni fa prova anche a svenderli che cosa dobbiamo consigliarle? non lo so consiglieremo di smaltire il magazzino l'unica verità è che il sistema ISEE in astratto non è un brutto sistema ma inserito all'interno di contratti di lunga durata sta creando dei danni enormi dei danni enormi quindi gli aumenti vanno sospesi la legge va rivista andiamo un istante sul fronte della pagina sportiva verso Forlì l'alma da Ross unieuro cambiata ci vuole la migliore alma dopo aver studiato i rivali di domani al video il lungo bianco rosso mette tutti in guardia dobbiamo stare attenti ma il ritorno di Parks ci rende più forti il ritorno dopo l'infortunio Verone Manto vai calor bianco uno dei due anticipi di stasera in un turno che promette altri colpi di scena Triestina invece al posto di Corteggiano in quel position c'è Bradaschia davanti alla difesa nel 4-2-3-1 il tecnico Andreucci ha provato la coppia Frulla Carraro ma c'è anche Celestri a centrocampo per il match di Noale potrebbe ritrovare spazio sulla destra Turea Zico racconta il suo mondo il calcio e divertimento parla del campione brasiliano ospita Udine dove giocò tra l'83 e l'85 ma oggi vedo troppa tattica un gioco poco tecnico ed eccessivamente fisico Pallanuoto Trieste match chiave a Roma invece la formazione di Piccardo deve ottenere una vittoria contro la Bisnova l'unico giocatore non al top Petronio obiettivo naturalmente ancora le final six di campionato Palamano Principe la prova è Pan Visintin non dobbiamo distrarci il capitano alla fine penso che Merano vincerà contro il Malo ma noi non dobbiamo mantenere noi dobbiamo mantenere scusate i tre punti di vantaggio i nostri avversari sono giovani ma soprattutto in casa sanno farsi rispettare diamo anche un'occhiata al servizio che riguarda invece questa importante incontro al Propeller Club in programma lunedì 17.30 al Hotel Graif di Viale Miramare in cui si metteranno a confronto i grandi progetti di ristrutturazione dei waterfront di Trieste e Napoli un parallelo interessante proprio perché si parla di due città che da questo punto di vista hanno molti punti in comune ma anche progetti che in entrambe due le città sono stati per troppo tempo divisivi Trieste e Napoli due waterfront dislocati su aree contigue fra porto e città che seppure in scala diversa presentano enormi similitudini a livello di potenzialità di sviluppo ma anche sul fronte storico e architettonico sul futuro dei siti però entrambe le città si dividono si parlerà di questo lunedì 20 febbraio alle 17.30 in un incontro aperto al pubblico del tutto speciale organizzato congiuntamente dai propeller club di Trieste e Napoli in collaborazione con le autorità portuali competenti nella consueta cornice dell'hotel Graif diciamo senz'altro sono due città che hanno grandi similitudini sia orografiche piuttosto che culturali piuttosto che storiche e condividono anche due splendidi waterfront che sono stati fino ad oggi più lo dico in maniera provocatoria un disagio che invece quali sono effettivamente devono essere un grande motore di sviluppo sia per Trieste che per Napoli richiamandone le grandi potenzialità turistiche ma non solo oltre a quelli istituzionali la presenza sia di rappresentanti del mondo accademico esperti sul tema sia della soprintendenza le belle arti e il paesaggio fornerà i necessari contenuti scientifici le due situazioni vivono entrambe uno stallo da lungo tempo e se ne riparerà anche in un secondo incontro analogo a Napoli a fine marzo i due incontri pertanto hanno il chiaro obiettivo di individuare nuovi modelli sia decisionali che operativi più efficaci e in grado di dare risposte concrete allo sviluppo sia del waterfront partenopeo che di quello giuliano Allora tra poco avremo con noi Alessio Colauti poi alle 9 c'è il maestro Pilat quindi insomma mattinata speriamo con il sorriso sulle labbra per tutti per intervenire c'è lo 040 31 39 93 prima di andare in pubblicità un ultimo blitz sulle pagine del Corriere della Sera per quanto riguarda i temi in primo piano ovviamente c'è la politica PD l'ultima trattativa non basta Lodo di Renzi sulle primarie Maggio è telefonata a Emiliano oggi sfidanti pronti allo strappo D'Alema la scissione è un nuovo inizio vedete qui proprio appunto il governatore della Puglia è il premier l'ex premier Renzi il governatore il segretario può evitare la rottura rinunci alle tappe forzate e ancora su questo tema un nuovo partito pesa almeno il 6,5% i democratici uniti restano però dietro al Movimento 5 Stelle gradimento vince Gentiloni Di Maio supera l'ex premier nel gradimento stando ai sondaggi che vengono effettuati in questo momento Gentiloni in testa Di Maio al secondo posto Renzi poi tutti gli altri a partire da Grillo Salvini Meloni Brusconi e Alfano in fuorionda di Dario che critica Matteo Renzi non ha fatto nemmeno una telefonata per evitare la rottura ma come si fa vedete il fuorionda proprio che poi è stato pizzicato però dai giornalisti togliere tutti gli alibi nessuno andrà a testa alta se nel partito cede la diga al titolare delle infrastrutture no ai cattivi consiglieri e ancora Boschi si sfoga con l'ex premier perché aprire a chi in dicembre brindò le preoccupazioni di Confalonieri un nuovo partitino con un nuovo partitino si compromette tutto qui vedete tutte le sigle tra sigle e scissioni una storia lunga oltre un secolo si parte dal partito socialista poi quello comunista poi tutti i passaggi intermedi il PDS e così via per arrivare per arrivare poi al partito democratico che ebbe però a sinistra le ultime elezioni se è il sinistra ecologia e libertà che peraltro già non esiste più vedremo vedremo quello che succederà intanto noi proseguiamo con questo Sveglia Trieste speriamo come detto poco fa l'insegna del sorriso Alessio Colauti i suoi spettacoli la sua verve in studio tra qualche istante poi alle 9 il maestro Pilat si è concluso Sanremo quindi ci sarà sicuramente qualche stoccata dopo insomma le parole dell'altra settimana tra poco ben trovati ben trovati in diretta con Sveglia Trieste abbiamo con noi Alessio Colauti buongiorno e ben trovato buongiorno Marco buongiorno signori buongiorno a tutti ben svegliati o ben ben qualcuno si starà ancora rodolando in letto sì 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 poi ci sono ancora quelli reduci da ring dell'altra di ieri sera che insomma sta ancora zigando no scusa posso dire l'unica cosa seria dimmi mando un abbraccio veramente a quelle persone di Via Negri perché che sia insomma dopo le verità viene sempre fuori però non deve essere una situazione proprio granché piacevole eh diciamo che sono tante situazioni di disagio che si stanno vivendo con l'anno nuovo questi momenti speriamo che come ieri sera è stato promesso la ring arrivino i correttivi però abbiamo messo insomma una mattinata con il sorriso faremo faremo il possibile quindi chiediamo se possibile al signore che ha chiamato l'altra volta se potesse richiamare perché io sono andato nella zona di Gorizia ma non vuoi trovare le vide che lui cercava vuoi trovare solo vide quelle per le mensole solo le vide allora se potesse richiamare farebbe un grande favore anche perché ne risolvi la mattinata certo anche perché poi insomma le barbatelle ci sono pure le pesche di fiumicello volendo allargare il campo sì e madonna dopo se le renghe degrado le renghe degrado si si può fare tante cose come no Alessio tra una renghe e l'altra che coste fa nella serie cosa c'è in programma nelle prossime settimane intanto una grandissima soddisfazione allora domani 19 di febbraio domenica si era è in programma una nell'ambito della stagione not in caffè che è la stagione che ho al teatro Miela il programma lo spettacolo concerto un pomeriggio a Budapest con la Budapest Gypsy Orchestra guidata dal primo violino dal Primash il primo violino dell'orchestra del teatro nazionale dell'operetta di Budapest e il sottoscritto è Nicoletta Curiel che alterneranno tra le musiche magiare e danubiane loro alcuni duetti d'operetta e però da dieci giorni tutte e due le repliche sia quella delle 16 che quella delle 18 e 30 risultano esaurite e per rispondere alla continua richiesta oggi oggi quindi oggi 18 febbraio alle ore 18 e 30 al teatro Piccolo Fenice che è veramente lo scoperto è un gioiellino un piccolo era il ridotto della Fenice del vecchio cinema Fenice adesso parcheggio come si usa a fare qua o banche o parcheggi o supermercati questo si usa a fare dei teatri faremo oggi una replica straordinaria cioè lo spettacolo che faremo anche domani lo facciamo anche oggi alle 18 e 30 stesso prezzo del Miela quindi 10 euro l'ingresso ingresso acquistabile dalle ore 17 e 15 17 e 30 alla cassa del teatro via San Francesco 5 si entra da via San Francesco 5 si acquista il biglietto e si sale in questa sala meravigliosa quindi invece di farne due ne fai tre tre e lunedì sera con un altro spettacolo quindi quattro in tre giorni è una buona media ci vuole il fisico eh beh che non no più che che vuole si cavei ma poi non posso darli ma no più che fisico che vuole che vuole pagare il mutuo allora allora uno fa no scherzo chi c'è con te chi c'è con te allora ci sono cinque musicisti che arrivano dall'orchestra del teatro nazionale di Budapest ti ho detto il primo violino la viola contrabbasso il cembalo che è questo strumento angelico meraviglioso e poi un clarinetto e io che canterò le parti maschili e le parti femminili avrò madame Nicoletta Curiel una gloria triestina perché quasi 40 anni nonostante lei ne abbia 25 ma sono 40 insomma ha moltissimi anni di carriera alle spalle dal Bolshoi di Mosca alla scala di Milano passando per la Fenice di Venezia l'arena di Verona sotto bacchette come Muti Meta Abado e Viandare e ti dirò la verità che è raro che io sia in in imbarazzo perché sul palco sono abbastanza spavaldin insomma non mi manca la favella però sentire vicino a te una persona che poi lei è una persona estremamente ci vogliamo molto bene scattato subito un feeling meraviglioso però sento questa questa grande presenza ecco ed è un onore cantare con lei veramente bene insomma quindi un importante appuntamento ripetiamo che si può si può vedere Alessio con questo spettacolo sì che vi consiglio anche perché è proprio come fare un tuffo nell'area danubiana cioè tra i waltzer di Johann Strauss piuttosto che le Chardash di Kalman insomma e poi alcune aree d'operetta dall'Echar Kalman via andare è una cosa che cosa non aveva pagato la luce Marco no diciamo che abbiamo una luce che vai via ma sei un po' isterica no no che piasso evidentemente questa mattina non ha voglia ma vedrai che torna sì no torna ho fatto tanto per dare un po' di smir e adesso non si vede smir in muso come si fa non si tira niente niente no ma tornerà no con cellulare tornerà adesso adesso faremo va bene pronto? buongiorno 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 allora stamattina facciamo prima Alessio perché gode far devo portare tuo fradere a lavorare se mamma orco miseria mamma pronti via buongiorno ma se è possibile che tutti e de grazia che la sefia unica e che no go con un buccio dei cugini parenti se no forse una roba tipo caramba che sorpresa buongiorno signora ben trovata buongiorno Alessio buongiorno servi qualcosa per dopo pranzo? no tutto a posto grazie servissi una lampadina ma qua non si può fare niente quindi io dico papà che porti? eccolo ghiaccia mamma e luce fu te l'ha visto? hai visto che roba? no non serve niente anche perché tra l'altro la mamma sarà sarà la cassiera del pomeriggio ah però sì quindi ecco servissi che con te che finite che chiuso la cassa che mi stavo cantando che non te fili con la cassa e lascia i soldi ma me posso ciò la paga da quel che no la paga arriva sempre alla fine del mese alla fine del mese di stare in casa no no perché? perché perché non capisci altro da far forse ma Marco scusati tu sei se puoi fare un po' che voglio dire no c'è nel momento in cui si chiama tua mamma è la domanda per par ineludibile la cassa volta non servi? no mi sembra di no forse domani non so vedremo no 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 niente manco posto il frigo te la tutto no 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 tutto a posto tutto a posto grazie tutto bene siamo a posto e signora mi raccomando la fassi bene i conti perché sennò qua dopo ah mi dopo controllo eh si qui lo sarà fatto e il controllo la flica signora un abbraccio grazie si signora un abbraccio anche da me stia bene stia bene stia bene ciao Alessia ciao mamma ciao ciao utile a entrare in il nostro consueto discorso che non si sa mai doveva parare ma tra una barbatella e l'altra noi speriamo sempre di dare fondo ai nostri personaggi più eh importanti al telefono quelli che ci fanno anche divertire un po' insomma tutte quelle che trasmissioni in cui può succedere veramente di tutto un po' di tutto veramente un po' un po' di tutto e dunque questo lo spettacolo che possiamo vedere oggi che si vedrà domani eh al miele poi cosa c'è eh in cantiere si prosegue poi eh nel mese di marzo adesso ti dico anche la data perché me ne dimenti col 12 marzo avremo un uno spettacolo dal titolo Cartoline da Trieste ovvero tutti i fatti di cronaca presunti o reali o episodi aneddoti che riguardano Trieste e che sono raccontati nelle canzoni triestine messe sul palcoscenico con l'apporto anche di alcuni ballerini ah fantastico anche perché l'altra settimana c'è stata questa diatriba o diatriba 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 di Isi Bosazzi Stabonche che fissa l'apparecchio che devo arrivare eh sull'uomo vespa no? perché il maestro Pilat dice come spesso succede nelle canzoni popolari eh si è messa in giro una storia ed è diventata una canzone invece il maestro Ferfoglia uno degli abituai non evochiamolo no no ma arriva arriva lo stesso uno degli abituai del salotto di Sveglia Trieste dice era il signor venezian che sentato su un scagnetto come si dice se disi in Trieste all'inizio dell'inizio di Scala Santa che sponseva ma io ci credo più io ci credo più credo più a Ferfoglia anche per Ferfoglia voglio dire Gadamò passato il secolo quindi c'era si ricorda c'era era lì si era lì che teniva il scagnetto mentre Pilat non gli era ancora nato con l'auti vota Ferfoglia no no vota Ferfoglia appoggiano vota no vota no quasi scissioni pronto? pronto? signora la sequela delle barbatelle? no tesoro no ciao ragazzi Alessio si? visto che te paghi tu mamma a fine mese in caso anche me eh quasi sequestri spinose stamattina stiamo svegliata col soldo sono se ci alzano un po' ritorno se no la mica non riesco a sentirla bene chino l'ideologia no si la signora è la mia capo clan ma io di solito la signora uso pagarla in natura no ma in natura intendo pomidori la gente pensa chissà cosa no 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 intendo pomidori e tutto ma se ti porto i pomodori beh vabbè ma questo ti dago un basetto e poi ti sa che ogni tanto un pizzicotto ti dago dove ti piace signora ma la sequela delle marmellate no no mi sa quella delle cotolette delle cotolette e la fa ottimi minestre use letti di pollo buonissimo e dopo la fa buonissimi lonza di maiale struccolo di pomi senza canella perché la signora non tollera la canella allora ha tanti non vi piace sì ma anche le zibib non va più tanto sì come se dici in dialetto qua carsolina è un po' cociucca va 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 sì sì è vero ascoltai ragazzi sì beh non vi sento più noi sì pronto sì pronto noi sì adesso vi sento niente voglio solo darvi un saluto ciao e buona giornata se vediamo stasera parimenti a lei signora stia bene se la sarà ancora con noi se vediamo stasera se no faremo un minuto di silenzio per darti fastidio ciao ciao Laura ciao Laura grazie grazie alla nostra alla nostra alla nostra amica eh si sono scatenate presto oggi eh sì se vedi che le gare ose la parrucchiera che ha dato appuntamento sei presto ma non arrivo a capire vabbè vabbè vediamo cosa cosa succederà eh cosa succederà sì perché fine nove le longa ancora eh sì no ma perché siamo qua va tutto no appunto non avemmo mica il telefono pronto pronto buongiorno buongiorno ciao alessio ciao alessio vabbè c'è mamma c'è mamma c'è mamma la vicina ovviamente la vicina oggi oggi se le caviamo fuori a tutte all'inizio così dopo magari sentimo altri signora lei cosa è la cosina prego cosa è la cosina de bon ma io oggi niente veramente ho tanto da fare ah ho capito cosina tanto suo marido è solito che sei molto bravo 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 si si che te sa eh appunto allora ascolta alessio volevo dirti stasera sta tranquillo per i soldi controllo mi mamma ah beh allora guarda allora siamo buoni come la banda va sotto senza la tuta con le righe figurito che bene guarda che roba in che man che son va bene allora stavo tranquillo che non trovo un benissimo neanche un va tranquillo benissimo almeno godevela godevela beh tutti i soldi ben salvai dopo vedremo come mettoni sì certo signora cosa cosina suo marido ma adesso va in bici vediamo dopo qual torna ah la dizi magari spazza è un mago è un mago dei funghi perché lo rifrequenta la valla urina d'estate ecco e ogni tanto che dà dei funghi insomma roba seria ecco non capisco ma se è partito con la bici se è andato se è andato sì in realtà conoscendo i due tipi non so che lui se è andato sarà ella che lo manda fuori con la bici ah se è andato sì potessi essere ma proprio te me conosci bene eh potessi essere mi sa proprio di sì signora ma la che dà la fuga come se dice in Triestino no mai questa roba mi no la che ha aperto la porta e la che ha messo la bici su piena rotola e la che ha detto va la che ha solo mostrerà come andare esatto esatto speriamo che torni con la spesa signora vabbè vabbè ma non si sta aggiungendo i funghi no no adesso si sfoglie una buona sfoglia alla mugnaia per pranzo è già un po' tardi siamo già tardi no ma mi pare che mi sia qualcosa con sugo di seppe l'ho visto ecco che non sta mai male Marco allora per la una possiamo passare sempre soffigate in rosso mi raccomando no e il fil per tagliare la polenta se no poi no la mia bisnonna dobrava fil bianco se sei bella giornata e fil nero se sei brutto ma va sempre ma va sempre quindi filo filo bianco se sei bel tempo o filo nero se sei brutto tempo ah però questa è interessante la inseriremo nelle tradizioni triestine nei nostri giri signora buona giornata buon pranzo buon tutto buon tutto voi come sempre forza l'Issio grazie grazie saluti a dopo ciao a dopo un bacio ciao vediamo se c'ha il signor Bruno e ne conta cos'è il Cusina per una volta chissà se ah si chissà se ne c'ha insomma visto che al solito ne parla di politica di territorio libero se ne parla anche le Cusina vediamo no mi mi fa morire perché sento ogni tanto questo della potenzialità degli anziani di Trieste si gli anziani di Trieste sempre tutte le soluzioni per tutto cioè sentite senti sarei tutti i delegati delle Nazioni Unite tutti ingegneri perché se sei davanti un cantiese ma se è logico che non cammina perché quel tubo avessi da stare 10 cm più da perché così la condotta se se parla il territorio libero di Trieste dici ma si logico perché nel 47 quando che loro sa se può cosa fare la costituzione anche del territorio libero sotto Sky pronto? pronto? prego signora la signora dalla voce dolce buongiorno sono Anna buongiorno signora allora la mia preoccupazione era prestabile perché come dicono i napoletani sembrava che fra tutte quelle donne i napoletani dicono se lo mangiasse e io pensavo che se lo mangiasse ero veramente no la voce di stigo all'urto signora il gai colletto carico del rossetto è stata una battaglia dura però ma si che il rossetto sei basi che dopo le gatta i us perché le gatte nude calme no peraltro ecco ecco a proposito allora questa volta ho fatto un sogno con i us e no allora è un incubo no vabbè è simpatico prego mamma mia allora una piroga in riva al fiume ecco una grande piroga si è passata lì ma col mezzo marinaio e gli ha fatto un buso dopo gli ha messo su i dieci piccoli indiani che naturalmente faceva parte la boschi l'inzi ecco gli ha messi là e gli ha mandato già per il fiume e dopo gli ha scoperto che i dieci piccoli indiani non sapevano udare chi sa come che si è finito il sogno non è però una bella roba no? uca miseria la signora qua signora migo un ottimo medico di famiglia forse forse è il caso che la cambi le pirole della sera ecco appunto no perché non la staghi guarda ring la guardi altro alla sera perché dopo l'abbiamo leggermente buttato i politici stabile che ha fatto una sorta di caponata destraganza no no dopo le trappe della signora Marisa sono a posto ecco mamma vabbè stasera e domani sera se vedemo ah che contento che sono ah ma non vengo là mi sono mezzo nell'ombra sono in ultima fila ma sei là che sei i miei tocchi signora i loggionisti gli ultimi fili sei i migliori sempre sempre signora grazie mi raccomando continui a seguire anche le serate a ring che insomma che così magari dopo la sessonia non so avarino che guida la concordia e lui che fa il primo ufficiale non so una roba del genere va bene però questa della piroga mi sai piasi perché sempre spero che i sei imbarchi e che si e un poco tutti sperassimo ma non solo lori la piroga seria un'arca de noè che ingrumi tutti e appunto appunto questa è la speranza eh si è l'ultima a morire grazie signora arrivederci buona giornata grazie signora bene bene ne mancava la piroga stamattina no? si perché sulla piroga mi mettessi le barbatelle perché pensi sentendo in un mondo tipico mezzo del trasporto le barbatelle la piroga si poi la piroga vuol dire uno usa ti tega la tua piroga ti sono in borsa chi non ha una piroga amico una che dopravo anni fa dopo quella che dopo adesso ah ho capito boh perfetto siamo partiti bene perché poi Alessio mi guarda dici fin le nove cosa fiamo si no giusto no non sei che venimo di chiamare le guardie del radiccio per domandare se c'è qualche qualche sciocco o qualcosa se sbrisca la polizia locale no la polizia locale no anche perché una volta era guardia del radiccio adesso è polizia locale perché se tutti marescialli ultracapitani ma non ti sa quanta gente mi ferma dicendomi l'affascinante voce del tenente Colarossi impeccabile impeccabile ma il tenente Colarossi potessi farla al manaco del giorno alla sera sì 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 domani avremo bel tempo e potremo vedere il sole sorgere alle 7 25 fantastica magari dopo te la guardi e sarà un tartife l'unico però devo dire che poi con Umberto ha un certo ha un certo feeling pronto 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 la ne conti e mi volevo parlare un momento col signor Marco e con la Uti siamo qua e anche me eh allora e con chi parlo adesso e siamo tutti due insomma la fatti lei la cominci con Marco e comincio con Marco sì e che faccio i complimenti per la trasmission di tutta la settimana non solo questa grazie di oggi e volevo dir che signor maestro con la Uti volevo dir che bel look che è oh grazie che cecavi la giacca e che vedo che gilet che è sotto e dove che compra quella roba oh la cusciva me lasso me lasso un po' coverto signora così ma sì dai mostri la mostra si addominali se che se vedi se vedi un po' con le mulze la sa signora è una certa età cosa devo sperare no coco la mia bella e no e no coco la sa e ciò no scherzo no 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 se ovviamente tutte cose che compro mi vesto in in Austria quindi compro ma ecco adesso raccontarmi no dove che compra perché mi ero curiosa e domani le c'era vengo a vederlo ah sono contento signora bu grazie grazie a lei e mi sono dell'ambasciata dei Piran che va bene benissimo l'ambasciata dei Piran perché Trieste ha un'ambasciata onoraria dei Piran ma forse metti Piran allora tutto un sogno un sogno da dimenticare Piran uno dei posti più belli del mondo confermo 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 un struccon allora a questa simpatica mamola che manda un grande struccon bene per le mudane in tessuto dell'Oden ripassemo più tardi no ogni mezz'ora adesso Alessio se togli un capo e poi vediamo quel che succede prima delle nove e se resta in mudane e va bene giusto molto bene saluti signora arrivederci speriamo che fassi audience no insomma la scusi signor Marco si esporti lui come? è lui in linea Marco siamo tutti due si prego adesso mi occori Marco che quando che viene il maestro Pilac si e si scegni per favore perché perciò fare la linea che vuole mi segno se puoi suonare e Marco canta perché Marco canta tanto bene scendi le scale scendi scendi le scale scendi scendi le scale scendile piano piano e prendi la lume in mano scendi le scale piano piano la porta ti aprirò ecco questo è l'anticipo di Colauti che immediatamente è pronto alla sollecitazione grazie saluto a tutti grazie grazie signora saluti facciamo un attimo di pubblicità così poi magari arrivano le barbatelle in studio noi ci speriamo un attimo di pubblicità ben trovati ben trovati a Sveglia Trieste con Alessio Colauti mattinata che è partita subito in modo effervescente soprattutto grazie alle vostre chiamate da casa però siccome la famiglia l'avevamo esaurita non stimolarne mio papà non ci amassi neanche se lo metti col scioppo mia nonna sta ora ancora i denti in bicera quindi non è pericolo questa è la battuta che fa più rider Umberto tu sai questo dei denti in bicera ma in realtà triestina molto diffusa credo salvo che uno non gava i perni che tra l'altro tuo papà è un timido tra virgolette mio papà è un orso più timido sembra ma dopo col Severzi i seri lo ti che mi viene rider allora ricordiamo appuntamento quest'oggi per questa diciamo replica in anticipo a grande richiesta come dicevano una volta sì mi fa piacere mi fa piacere e onore il fatto perché non è una cosa molto usuale ecco che bisogna di solito anche i teatri più grandi tendono magari a cancellare una data perché non non è andata non c'è stato sbigliettamento invece noi andiamo sempre in controtendenza mi si esposto vado in controtendenza bravo ci fai un esempio di quello che la gente sentirà questa sera domani al miele beh andiamo dai grandi waltzer faremo un po' a spizzico magnifico quindi dai grandi waltzer di Johann Strauss come il Kaiser da waltzer sentiranno l'immancabile Ciardas di Monti il duetto tace il labbro della vedova allegra e dopo non posso dire tutto insomma per 10 euro che i vegni e che i guardi insomma voglio dire un bel un bel missiotto pronto ma buongiorno ragazzi buongiorno a lei signora allora intanto grazie della compagnia dopo notizia esclusiva come dì di Barbara D'Urso ah però a Montpalcon potrò le vide e anche il cacciavide giusto no perché le barbatele che vuole il suo cacciavide ragazzi per metterle dentro ma sì ma sei contenti ma sì no come no anzi dopo pranzo sì primi zainfrac vestito così devo andare direttamente dopo sul palco zainfrac trucà andiamo mi e ti comprarle sì e dopo magari le demmi in omaggio a quei del pubblico signora lei la Megadale magari ha risolto la giornata benissimo allora potessimo chiamare Bosazzi col caffè che fa d'autista scolta in privato vedrò il nome del negozio perché non si può fare pubblicità no comunque che sapè che esisti che il signor non ha dito vale no 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 ma noi non mettiamo mai che le gambe rotte sei sicuro ma che le gambe ditte no 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 ma sulle barbatelle non si discuti no 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 signora allora ascoltemoli grazie no no piano cosa la fa per pranzo ah no ma va bene va bene no no cosa la fa cosa la cosina per pranzo io ho una domanda perché qua scura 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 è un poco sorda ma ascoltami faccio tagliatelle con i funghi ah se vuole passare si mi lascia un obolo perché stavo nelle case dell'ater mi ha raddoppiato l'affitto anche a lei mi lascia un oboletto no anche a lei da quanto a quanto signora allora mi avevo in tutto avevo 120 con le spese noi avevo 48 di affitto e adesso mi devono 88 ma mi avevo 505 euro di pension è buono va bene dai i calori no ragazzi si è così buono ma insomma buono che se vuoi che avete passato questa ora e mezza proprio come le ringrazio tanto signora un grande abbraccio grazie ma anche a voi e complimenti alla tua mamma che l'ha fatto così a tutte e due la guardi signora che lo dico che lo dico che lo dico a tutti di solito ma alla mamma al papà non ve lo dico quasi mai perché non volessi che se monti la testa ma ogni complimento quando mi viene fatto un complimento a me non se è mai un complimento fatto a me ma se complimenti che va subito girati alla mia mamma e al mio papà perché quel che sono se il pagliazzo che sono come dire quel che so fare tutto è tutto dovuto ai sacrifici all'impegno e a tutto quello che ho dato i miei genitori quindi tutto complimenti che va fatti a loro mi centro poco veramente ma so tesoro guarda c'è una roba buona che ho fatto nella vita che ho fatto da fiori che a livello spirito ti somiglia abbastanza ecco veramente tesoro grazie signora grazie a tutti ragazzi grazie bocca al lupo anche a lei saluti grazie signora dopo passiamo per le tagliatelle c'è qua non c'è nessun problema molto bene ti piace le tagliatelle? com'è? tagliatelle ti piace? si se le fate fresche si orco si no perché non mannerò mica quelle di sacchetto no? no scusa ah te pretendi anche di fare eh no scusa la gacola uti è stabile in casa la ghidara la ghidara di matarelli ecco resta attenti con il matarelli che poi può diventare pericoloso un oggetto si contundente mi è piacevole la la l'occasione per ricordare anche mi vesto appunto sempre austriaco e tutto però mi è piacevole anche ricordare quel quarto di pugliesità non so se si può dire così come no? che era la mia nonna che non ho più insomma sono un po' tagliate anche ti no colpifero un quarto un quarto se pugliese si orgoglioso ma proprio della punta di Santa Maria di Leuca che era la mamma della mia mamma appunto e e adesso mi perdo perché dopo mi commuovo ogni volta però e la nonna ecco il matarelli e la cola mi correva a Drio per darmi se ne e sa come si dice i matarelli in pugliese minaturu minaturu te piglio e te lo dago con minaturu ah però te ciappo e te lo dago con minaturu quindi questo è anche un modo per abbracciare tutte le nonne sia quella che ho ancora che che era speciale che quell'altra che non ho più che era anche speciale e tutte le altre nonne e poi a questo punto abbracciamo anche i tanti meridionali che negli anni sono arrivati a Trieste hanno portato anche la loro verve in realtà in moltissimi casi a differenza di quello che stupidamente si dice la loro voglia di lavorare perché è gente che vi ha costruito tantissimo ma soprattutto quelli che parlano in triestino con l'impressione 30 anni che stanno qua mi parlo di triestino e mi dici ancora che sono gabib e insomma un po' di quello che si aggiamano esatto perché non si senti più parlare di triestino veramente qua non si senti di triestino se è una roba una disperazione non ti dico ecco perché insomma hanno inventato praticamente un loro dialetto no? e poi è un enclave è un enclave assolutamente i napoletani vanno tutti nelle loro pizzerie tutto un zuf tutto una roba un poco no? però hanno hanno aggiunto no? a livello sia di spirito ma sai io credo che qualsiasi poi qua il discorso si potrebbe fare molto ampio qualsiasi migrazione di un popolo di una cultura diversa perché è una cultura totalmente diversa dalla nostra ricordiamoci che l'Italia è una roba che accade insieme col chaving gum da 160 anni che è una roba ridicola se pensiamo eppure le migrazioni hanno sempre magari con un po' di tempo portano sempre un arricchimento quindi apportano e non sottraggono sempre sempre quindi esistono i triestini patocchi e i triestini padocchi padocchi quei che vanno a Medoggino alla Bargola quei signori che hanno la diabete la diabete chiaro anche perché al sud si declina il femminile in un sacco di termini quelle che caccia a palla accenza compra le ciopette è tutto un zuffo fantastico so già che la zia di Bosazzi ti segue sicuramente stamattina contenta mia nonna guardando chi l'ha visto per un periodo lo aveva condotto Daniela Poggi che negli anni 60 aveva fatto dei film quelli dove facevano molte docce con Alvaro Vitali e guardando chi l'ha visto la sentenza così la guarda si brava è brava però essa fece i filmi porni scusa se è quasi latino se è declinato filmi porni certo pronto? pronto? buongiorno si buongiorno oh signore buongiorno prego volevo complimentarmi con il signor Colauti per la sua ottima dialettica che ha e per le capacità persuasive di cui gode l'ho sentito esaltare come ottimo convincente conquistatore so di persone che da quando l'hanno conosciuto sono cambiate da così a così hanno abbandonato amicizie e ambienti che frequentavano hanno cambiato abitudini e vivono secondo i suoi indirizzi gode di fervide ammiratrici e lo svelano le telefonate odierne e eventualmente se si farà un partito potrà anche avere tanto successo grazie grazie stringiamo qua subito il patto del predellino se divento sindaco lei la mi fa d'assessor pronto? pronto? farà d'assessor gli assessori di solito se la moca per prima quindi farà d'assessor sicuro no grazie veramente grazie mi onora queste parole il mega da un poco del pifferaio magico che ingruma le babe le porta noi abbiamo il partito la più giovane che è 65 eh vabbè no no ma ecco Marco te lo dico te lo dico se con quelle signore e con quei signori che gà diciamo dai 65 in su che se si diverti veramente i muli della mia età so che non crederà nessuno un amico 31 anni Marco Sacri mi so più vecio ecco si se vedi grazie comunque amico 31 anni ma per divertirmi se voglio veramente divertirmi fisarmonica una cantata con l'ori una chitarra va il più che 20 giorni a Zanzibar certo perché gà uno spirito che soprattutto qua Trieste qua di noi ma poi succedono anche cose simpatiche no perché se lavori per un po' di tempo in una nell'ambito delle tv locali quest'anno sono 18 anni che faccio questo lavoro tra insomma tra una tv e l'altra raramente ti succede che ti fermano raramente succede che ti fermano i ragazzi i bambini no perché magari la tv locale non è così vicina ai loro interessi da quando abbiamo iniziato con il maestro Pilata il sabato di mattina supermercato ieri sera sotto casa mi fermano bambini di 6 anni mi dicono sabato mattina canto con voi ed è una cosa speciale perché come dire ti dà conto di un pubblico che normalmente magari non guarda la tv locale pensi magari che sia più votata le persone dagli ante in su invece poi queste scoperte che andando proprio sulla triestinità invece coetanei nostri la mamma con il bambino la nonna con il nipote ritrovano anche certe tradizioni scusa io direi se mi permetti facciamo il telefono dopo ti dico la roba sì che non sia quella delle barbatelle pronto pronto buongiorno buongiorno io sono una pugliese patocca grandissima che viene da bitonto io ci scommetto come mai riconosce la voce eh bionda mia te conosco mascheretta volevo solo salutarvi volevo solo congratularmi mi diverto tanto con te e so che anche tu un pochino mi vuoi tanto bene poco 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 un pochino mi vuoi tanto è bellissimo signora da quanti anni da quanti anni a Trieste io sono circa diciamo una diecina una diecina sì 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 la prima persona che ho conosciuto è il il triestino ha subito quella uti pronti via eh ciao bisogna dire bisogna dire una cosa della signora con la signora in un viaggio siamo stessi e lì c'ha rimane il telefono non muoverti però è un nome tipicamente Triestino sì lì c'ha lì c'ha l'orella l'orellana patrizia la triestina però la signora che vede da Bitonto arriva andiamo in viaggio a Monaco nuvolo terribile di colpo si apre il cielo andiamo in una birreria che conosco di persone che conosco perché conosco molto bene in Monaco vi dico e io dico a loro vi porto dove vanno solo i locali cioè noi turisti camerieri tutte le ragazze con i dirnd i ragazzi con le lede a rose e tutto e lei ha ordinato una cartofo un salato un salato di patate sto mulo zammilo che avevo dove c'avei come un stramazzo nerri nerri fissi proprio che mi dà un'invidia nera arriva al tavolo e dice gardoven zalat e la signora fa è per me e lui gli fa ma signora lei è italiano ma si io vengo da Bitonto pure io vengo da Bitonto insomma gli erano mesi parenti se vieno fuori che non capì mancava solo lino Banfi si esatto va bene comunque è stata una delle esperienze più divertenti dei viaggi eh sì eh sì grazie no 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 napugliese signora da buona napugliese cosa la fa per pranzo? io ci sono ospite stacca la sei ospite e cosa si mangia? è una sorpresa non si sa ma il suo piatto forte? le orecchiette con le cime dei rep eh sospettavo ma a merco ma a merco sto facendo il verso ai pugliesi molto bene molto bene va bene lì c'è un grande abbraccio grazie a voi buona giornata e tanti auguri grazie 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 che tra l'altro abbinamento perfetto la cima di rappa con inciuni che sarebbero quei sardoni piccoli no? messi sotto sale o sotto olio dalle avvicine dalle nostre coste insomma poi danno vita a una pasta non indifferente ma poi in quelle zone la mia nonna pugliese faceva cozze riso e patate in forno mi l'ho provato tante volte ma sto riso o mi resta duro come un caramello e mi spaca tutti i ponti dei denti anche quei più nuovi o il me se cosina troppo o però una roba riso patate e cozze è una delle specialità pugliesi salentine credo più che pugliesi però però molto molto buono stiamo spaziando vediamo se la prossima ne porta le mozzarelle di bufala pronto? pronto? prego buongiorno signor Collavutti io volevo un'informazione quando potrei trovarla nella sua agenzia per un incontro per parlarle di un vorrei fare un avvenimento a Trieste che sono in trattative e volevo vedere il suo tempo e la sua disponibilità e come quando lo trovo in via degli artisti guardi ho qui l'agenda proprio davanti e credo che il suo papà mi conosce bene mi dica Ruggero lui mi conosce bene bene io credo lei sia il signore di San Giacomo vero? che bravo grazie io credo che se lei lunedì verso le 11 e mezza mezzogiorno passa a trovarmi in agenzia mi trova di sicuro benissimo benissimo la ringrazio le ha già detto tutto credo ho avuto qualche soffiata sì va bene buona giornata grazie a lei arrivederci sembra di essere il dottor che ferma appunto vabbè ti ricevi in privato purtroppo eh vabbè ma lei ha tanti impegni perciò giustamente guai se no guai se no se no vabbè ti fa anche in Framenia come in ospedale un saluto un saluto al conduttore ah anche grazie grazie buona giornata arrivederci ti fa anche ti ricevi in privato ti fa in Framenia come primario faccio anche in nero questo non si disi però beh qualcosa in nero arrivo a fare perché insomma c'è un due sponto un due punture arrivo a fare in nero questo ha una famosa la quale non posso fare il nome ha una famosa parlamentare triestina sì i labbri li faccio in sconto in nero perché non la voleva perché te sa dopo mamma mia manca ancora 40 minuti vabbè che non la ciamite prego che la mi aspetti fora vabbè ma no si fa per dire poi io non ho fatto nomi quindi parlamentari triestine ce ne sono tante ce ne sono anzi che è stata o è non mi ricordo se è stata o è ancora non so comunque pronto pronto quando si tenta deve farla pronti pronto sì è in linea è in linea ci racconta pronto buongiorno volevo fare i complimenti signor Colauti proprio per le persone anziane è stato gentilissimo perché ha detto si diverte più con le persone anziane che con i giovani meno male perché i giovani tutti quanti col suo cellulare col computer e ne dicono che noi non capiamo niente col muso fin per terra come se avessi problemi esistenziali quando invece alla nostra età ogni problema se una frase signora la guardi se una frase se una frase tradotta dal tedesco all'italiano nell'operetta lo zingaro barone che disi stringi i pugni e vedrai avrai quello che vuoi l'importante è saper che volere è poter ecstamente ecco noi muli dovessimo mi ho 86 anni lavoro ancora meranto e tutto però quando sento un ragazzo di 31 anni che elogia tanto le persone anziane mi fa tenerezza e poi la mamma che gli ha detto è tutto merito di sua mamma ma questo è un figlio meraviglioso ma questo è veramente una persona squisita mi spero di incontrarlo da qualche parte e di abbracciarlo grazie grazie signora ma qua se vedi solo i pregi dopo se la parlassi con mia mamma la sapessi anche tutti i difetti che gola ma no no non credo non credo tutti avevamo qualche difetto comunque tante grazie signora grazie grazie un bacione anche a Marco a tutti i due grazie buongiorno il problema poi è quando ti trovi in certi tipi di situazione con giovani giovanissimi il problema è la conversazione fatta così no? sì cioè la gente si guarda più in faccia no 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 è terribile ma è veramente impressionante e te parla uno che voglio dire il telefono mi servi per lavorare certo sia nel campo del turismo che nel campo del teatro passa tutto per telefono anche perché ormai sul telefono ti ha le mail le notizie le lettere tutto 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 però viva Dio guardarsi muso no insomma fa bene fa bene certo mi sono convinto che tantissime persone che se scrivi un messaggio anche se il messaggio volessi essere un messaggio non dico affettuoso ma senza cattiveria uno lo leggi perché dopo te interpreti le robe ma guardiamo se il muso dobbiamo se la man e soprattutto soprattutto adesso non voglio cavalcare l'onda della signora ma le persone anziane dopo una data età che perdi magari il compagno di una vita perdi amici e tutto mi credo che sia delle persone anziane che passa mesi che non c'è nessuno che fa così una carezza che li tocca che non c'è niente ma se un solo dir guarda vuol dire tanto credo veramente e non costa niente alla fine no? viva Dio assolutamente e il telefono costa invece e il telefono costa e poi insomma forse non fa nemmeno così così bene insomma spezziamo l'arancia su questo fronte perché insomma è importante anche guardarsi parlare cantare stare assieme anche in maniera un po' un po' diversa no? anche perché poi se no manca proprio il dialogo tra le persone pronto? buongiorno pronto? dovremmo avere ancora una telefonata vediamo se la recuperiamo al volo oppure no buongiorno pronto? pronto? buongiorno prego buongiorno buongiorno Alessio buongiorno signora Mostarda buongiorno che piacere sentirla buongiorno io spero tanto di poter venire domani perché so che non c'è neanche un buchino ma insomma qualche cosa stasera venga oggi che c'è la replica straordinaria dove? allora facciamo così a trasmissione finita io le do le do un colpo di telefono a casa così le do tutte le coordinate per comunque lo ripeto adesso e poi la chiamerò anche privatamente per ricordarglielo allora stasera la replica straordinaria che è lo stesso spettacolo che le persone vedranno domani al Miela si tiene al teatro Piccola Fenice via San Francesco numero 5 proprio l'inizio di via San Francesco la della Luminosa si fanno pochi passi si è arrivati la cassa è all'ingresso del 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 teatro del teatro sono 10 euro come l'ingresso al Miela e il teatro è molto capiente molto bello elegantissimo sembra di stare in una sala viennese e la cassa apre dalle 17.15 17.30 quindi un'ora prima dell'inizio dello spettacolo e prima viene più posti davanti a quindi poi comunque ribadisco finita la trasmissione le do un colpo di telefono così vediamo di sistemare va bene? io io spero soltanto di poter venire perché se dalle 6.30 in poi per me sarà un po' difficile ma poi ma poi lei sa che noi troviamo qualche maniera per farla rincasare non abbia timore va bene va bene signora mostarda con questo nome grazie per tutto quello no 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 fermo un attimo lei mi ha aperto mi ha aperto un mondo lei eh beh insomma non esagerare signora 50 anni cosa la fa per pranzo? ah vede io farei quello che facevo a Genova perché io sono 50 anni che sono a Trieste cosa io facevo i ravioli alla Genovese madonna che bocca come sono come sono fatti i ravioli alla Genovese? eh sono sono un po' particolari ci sono delle carni miste e poi il pesto ottimo 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 quello è una cosa una cosa preziosa molto bene comunque mi saluti mi saluti tanto lì con il signore perché è simpaticissimo in due siete uno spettacolo senza farlo grazie grazie signora tutto preparato signora grazie ci sentiamo dopo signora mostarda grazie tante grazie di tutto grazie grazie arrivederci detta senata immagino perché insomma mi parla questa è la signora al quale abbiamo fatto un patto di cuore perché lei è quella famosa della fisarmonica che giustamente ha capito che uno strumento ha ragione di esistere non ha senso che stia in un armadio se va avanti ad essere suonato quindi mi ha donato la fisarmonica con il quale suo marito suonava su una via crociera e io la conservo gelosamente e infatti abbiamo fatto anche una puntata qui sentendoti sentendoti con la fisarmonica insomma dobbiamo ripeterla prima o poi in tutta la sua bellezza io sono sempre pronto siamo sempre aperti pronto? buongiorno 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 volevo buongiorno signor Stabile buongiorno Colauti volevo dire signor Colauti che anche io gli preparerò dei buonissimi ravioli quando vieni a casa ah ma oggi la govecata ma se Giorgia questa è la ah ma se Giorgia finalmente la govecata molto bene sì e Marco ella fa ravioli della Bofrost e bastoncini findus e come sofficini sofficini che godovù spiegarle godovù spiegarle che i sofficini va messi in forno perché la pensava che fossero i ghiaccioli e la li ciucciava come i ghiaccioli allora si l'ha molto portata per la cucina è molto brava Giorgia non sa che i ravioli dopo te li faccio a me ma non c'è casa va bene siamo a perdere ah ecco te li porti te me li porti sul lavoro e dopo mi li porto e che faccio credere te li ho fatti a me brava 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 va bene va bene tutto a posto si tutto a posto niente in ordine come sempre dai molto bene ma a parte i scherzi qual è il tuo piatto forte il mio piatto forte se pasta col buttiro e un poco di panica no no piaga piaga sentire Giorgia Giorgia dimmi pasta col burro o pasta col tonno delle due varianti ah si perché per Nadal o per vigilia che se è roba importanti la fa tonno no la fa tonno si perché se è pesce chiaramente ma ma de scatola o de scatola ovvio ma ovvio mentre in giornate ordinarie che noi usiamo a mangiare di magro come qui il vescovo e tutto il vescovado mangiamo il subiotini con il mutiro e un fiatino di parmigiano che miseria si 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 festa si festa fraia fraia proprio vabbè Giorgia te porterò un po' di ragù che adesso congelo perché quella piccia che faccio anche quel leggero per ella va bene oh che bravo no ma mi lo voglio leggero mi lo voglio col disfritto eh va bene te porterò quel col disfritto va bene a rivederla signora stia bene ciao Giorgia un bacino signora e sono felice di sentire una signora anziana così su di giri come lei è un piacere avere degli anziani così a Trieste complimenti beh gli anziani chiamano gli anziani se per quel che tego ciamati oggi eh questo il resto bene buona giornata arrivederci ciao Giorgia ciao ciao Marco ciao ciao in attesa del ragù la pubblicità ben trovati ben trovati a Sveglia Trieste ancora con Alessio Colautti abbiamo parlato un po' di tutto forse abbiamo parlato tra virgolette poco eh dello dello spettacolo diamo una rinfrescata agli idee per chi in questo momento magari si è svegliato si è svegliato ha acceso il televisore su Telequattro sta mettendo la mocca del caffè sul fuoco seccava le cagole degli occhi e magari sa cosa fare questa sera anche perché siccome c'erano stati qualche problema c'era stato qualche problema sul segnale video c'è qualcuno che mi ha detto la sa caffè sveglia Trieste è intoccabile se non funziona se non funziona se non funziona bisogna poi prendere la purga comunque no allora domani in stagione per notte in caffè al Teatro Miela torna il quintetto delle prime parti del Teatro Nazionale dell'Operetta di Budapest guidato dal primo violino dal primas Ghiula Gabor nel programma Un pomeriggio a Budapest quindi musiche dell'area danubiana quindi che vanno dai waltzer di Strauss alle Ciardas Zigane con interventi d'operetta fatti dal sottoscritto e dalla grandissima madame Nicoletta Curiel una gloria cittadina nemo perfetta in patria e non solo io la chiamo la mia più grande Suzuki e lei lo sa perché e siccome marce no te me cali tutto ma so capito ma sa che devo dire una monada ogni 30 secondi esatto se no il mio cervello non lavora no calibra no calibra certo e siccome da dieci giorni il teatro le due repliche perché noi andiamo sempre in doppia replica al Miela alle 16 alle 18 e 30 sono esaurite credo ci sia forse qualche posto in piedi ma non ne sono certo neanche oggi abbiamo deciso di fare cioè abbiamo deciso non oggi ma abbiamo deciso di fare oggi una replica straordinaria dello stesso spettacolo che si vedrà domani al Miela per chi non è riuscito ad avere il biglietto al Miela al teatro Piccola Fenice via San Francesco 5 ore 18 e 30 apertura cassa 17 e 15 17 e 30 10 euro l'ingresso come al Miela i biglietti si comprano lì stesso identico spettacolo c'è tra l'altro la possibilità anche perché c'è una rampa di scale da fare per arrivare al teatro per chi non riesce a fare o non può fare la rampa c'è un ascensore quindi e poi anche un'occasione per scoprire una sala con un'acustica meravigliosa una sala restaurata fa parte del circolo Fincantieri Varsi che ringrazio per la collaborazione ed è una sala molto come dire che ricorda molto Vienna con questa ristrutturata in maniera deliziosa con un'acustica perfetta oggi 18.30 cassa aperta dalle 17.15 17.30 non mancate perché come dico sempre lasciare il divano di studare la televisione e impizzare la testa fa sempre bene perché stare a teatro si impizza la testa si sta in mezzo alla gente e fa bene e poi sentire bella musica buona musica fatta da dei grandi professionisti parlo dei musicisti non lo direi mai di me ma fa molto molto bene e poi sono degli artisti veramente straordinari provare per credere allora altra telefonata in linea sentiamo l'amico l'amica al telefono buongiorno l'amica intanto volevo salutare devo dire il nome sono Ilde Ilde buongiorno buongiorno Ilde Ilde guarda buongiorno ciao buongiorno intanto volevo ringraziarti come al solito tu sei onesto sei modesto proprio per un motivo ben preciso perché quella spilla ti si addice in toto grazie siamo onorati di averti tra di noi sei molto gentile in più tu non devi essere così modesto per il semplice motivo che tu sei un grande musicista aggreghi di tutto e non ho bisogno io di farti delle promozioni tutta Trieste ti vuole bene grazie questo era questo che volevo dirti augurandoti che anche questa sera sia un successo come tutto quello che avverrà dopo con noi grazie infinite e un bacione grande sia a Giorgia e anche da Giuseppe grazie grazie Ilde un grande abbraccio un grande grande abbraccio ciao grazie buona giornata ci sono pure i Lions io sono orgogliosissimo neo membro del Lions e ne sono onorato e ho provato questa splendida esperienza di entrare in questo service club che non credevo fosse così ho incontrato i Lions d'Ungheria e questa spillettina che sembra nulla quando la vedi addosso a qualcun altro sei a casa si abbattono delle barriere è meraviglioso e possiamo già annunciarlo perché l'avevamo detto anche l'altra volta proprio con anche il patrocinio del Lions il 13 di maggio di quest'anno sabato 13 maggio in una cornice prestigiosa molto prestigiosa che non posso ancora svelare terremo un gran ballo viennese dal titolo un waltzer con l'imperatrice con i ragazzini delle scuole di danza che in tutù apriranno le danze poi ci saranno i carnet per le signore che sono dei ventagli in carta di riso con il profilo di Maria Teresa i cotillon per le signore è una ricca lotteria di beneficenza che andrà tutta poi a favore il ricavato andrà a favore per i service dei Lions e una bellissima sfilata anche di gioielli oltre che la grande quadriglia di mezzanotte come si usa nei balli viennesi però la cosa molto importante da dire è che c'è un dress code abbastanza rigido siccome vogliamo ritrovarsi una sera in un bel ambiente tutti ben vestiti con della bella musica e tutto fa bene al cuore non è una cosa ovviamente aperta solo ai Lions sarà aperta tutta la cittadinanza ci sarà comunicati stampa e via andare il dress code prevede la cravatta nera cioè lo smoking o comunque un abito scuro per i signori e un abito lungo elegante per le signore bene bene ne avevamo parlato effettivamente anche nell'ultima occasione e poi a breve diremo anche la location in modo che i tanti interessati possano sì perché a Trieste è una cosa che un ballo importante manca da molto tempo ovviamente se magna com'è? se magna? no non si mangia perché inizia alle 21 si viene come le disilori venire già mangiati già mangiati vabbè no sa perché il triestino bisogna tranquillizzarlo se bevi e basta sì certo ci sarà il bar quindi certo siamo tranquilli sì sì almeno lì qui di sé certo pronto? buongiorno pronto? buongiorno buongiorno allora volevo chiederle al signor Colauti intanto mi lo ho conosciuto grazie a Telequattro perché non lo conoscevo mi dispiace tanto volevo sapere se ci sono ancora posti per la gita di Graz sì signora ne abbiamo mi pare ancora uno o due lei ai 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 dovrebbe signora lunedì mattina in mattinata subito dopo le nove quando apriamo chiamare l'agenzia le dico subito che non ci sono problemi di stanze perché stanze ne abbiamo ma i problemi possono essere con i biglietti del teatro allora le chiederanno di andare in agenzia di fare una cosiddetta richiesta impegnativa cioè lei darà i soldi del biglietto perché se c'è lo compriamo immediatamente se non ci dovessero essere più biglietti poi le vengono resi indietro ovviamente ma lo faccia subito o se ha occasione vada proprio di persona lunedì mattina alle nove giù la ringrazio prego signora grazie a lei grazie a lei parimenti grazie anche a questa signora che insomma stranamente ha conosciuto Alessio su Telequattro quando insomma di solito si non sono mai qua ma si è strano la prima volta che vengono no nel senso che di solito ti conoscono ti conoscono già e si divertono insomma anche anche Telequattro un po' aiuta a diffondere quelli che sono gli appuntamenti importanti dei personaggi triestini che insomma danno un contributo importante alla nostra città lo dico sempre alla fine quando ci salutiamo io dico sempre grazie a Telequattro anche a Teatro dico anche grazie al piccolo perché il nostro lavoro sarebbe dimezzato senza l'aiuto dei cosiddetti mass media no? cioè danno amplificano quindi non si potrebbe fare non si potrebbe fare di meglio ecco assolutamente quindi beata l'ora ecco tutto qui bene bene allora abbiamo ancora un amico o un'amica da casa sentiamola questa mattina si è iniziato a chiamare subito e senza e senza sosta buongiorno 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 sentano io non so perché non posso seguire sempre Telequattro non so che cosa sapete voi dell'uomo Vespa io però posso portare una testimonianza in diretta ma le persone che hanno avuto un'esperienza diretta ah il agape sigale no adesso le spiego io sono nato praticamente al piccolo perché i miei genitori lavoravano entrambi al piccolo e ho conosciuto come è venuta fuori la storia dell'uomo Vespa adesso vi lo spiego c'è stato un certo momento che nelle ultime notizie del giornale che usciva pomeriggio c'era uno spazio vuoto dovuto a censura e per riempire questo spazio vuoto la censura parlava proprio di fatti di sangue hanno inventato questo un'uomo Vespa la cosa ha avuto molto successo tanto è vero che hanno continuato a pubblicare notizie rispetto a queste a queste come si situazioni che si trovavano per rialzare le vendite per rialzare le vendite era inventato era inventato secondo lei quindi era inventato era inventato ma secondo me cioè io posso non posso portare perché ormai sono persone tutte quante defunte sì sì quindi conferma la tesi di Pilat ah ecco non sapevo che cioè questo io ho avuto come testimonianza diretta da persone che vivevano e credo 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 lo dico con beneficio del dubbio che il che il il redatore che fu come dire che fu investito investito di questo ruolo di inventarsi questa cosa fu Ferruccio Cavedani Cavedali qualcosa del genere mi viene Cavedali 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 ecco quindi combacciamo quindi portò avanti questa storia che serviva anche perché poi anche perché poi siccome da quello che ne so io poi ribadisco è tutto preso deve essere preso con le pinze ma le signore che venivano punte da questo un po' Grazie a tutti 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 E tutti Grazie a 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 tutti Vecchio Grazie a tutti 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 Vogliamo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Sotto Grazie a tutti E tutto va Un uomo Grazie a tutti Grazie a tutti E tu E tutto va Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Pronto Pronto Grazie a tutti Canta San Giusto Grazie a tutti E tu Canta San Giusto Grazie a tutti Grazie a tutti E tu Un saluto Grazie a tutti E tu 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 E tu